Buonasera a tutti, sono Luigi Neracus e preferite e bentornati a questo Doca News. Oggi affronteremo le ultime news sia dal piano global che dal piano JAP e vediamo un pochino cosa ci riserve il futuro in questo periodo totalmente morto. Piano global sta per arrivare ad un evento probabilmente esclusiva, ovvero la rabbia di Vegeta. L'evento di Vegeta durante il compleanno di Bulma, con Bulma che viene schiaffeggiata dal virus e lui si che si incavola. Poche info sono attualmente a disposizione, si sa di un Vegeta GL free to play e recentemente è stato mostrato un video di ritrarre un Vegeta STR Super Saiyan. Ora ragazzi noi abbiamo l'arte unicamente del Vegeta SR GL. Sappiate quel Vegeta va a SSR. Ora ci sono alcune cose che potrebbero essere successe. Uno, come è successo per i leak di Black Goku nuovo, l'STR, che lo mettevano a GL, potrebbe essere un errore, quindi siamo di fronte a un PG davvero buono, visto i danni, 800.000 danni in Super STR una volta che si attiva la sua meccanica, non è affatto male. Oppure forse siamo di fronte a un PG pullabile in un banner speciale per allungare un po' il brodo. Magari stanno cercando di capire come fare con Broly Super Saiyan 3, che per adesso pare non posso uscire, ma prendetelo con le pinze quanto vi sto per dire, per via che non tutti i paesi che hanno Dokkan Global hanno avuto Dragon Ball Regime Blast. Non avendo Dragon Ball Regime Blast come base su cui dire Broly viene da là, viene preso come PG di Iro se ci sono questi problemi, ma è tutta roba che ho letto su Reddit questa qua di Broly, anziché voi mi avete letto di reddito su Reddit perché mi avete trovato, quindi non siamo del tutto sicuri di questo. Il PG pare avere almeno la versione STR, una meccanica di Fury e la Beerus, esattamente uguale, 3 special in base ai key e fa danni abbastanza buoni. Non solo SA che avessi, ma penso fosse SA Max Full Ability, e arrivava a danni abbastanza ingenti, 800.000, PG di sicuro, data la meccanica è tutta utilizzabile addirittura nella ROAD, secondo me. Il problema bisogna vedere, perché se è Super STR, buon PG, se è Super AGL lo spazio non c'è per lui, soprattutto se è free to play, anche se è un free to play che arriva a questi danni, mi piacerebbe davvero vederlo, potrebbe essere per una volta un'esclusiva decente del Global, quindi aspetto con impazienza di metterle mani sui dati, in modo a farmi qualche calcolino. Le aspettative sono tante, speriamo non vengano distrutte, comunque non consiglierei di pullare nel banner con Golden Angel, ormai vicino, o Broly Terzo. Sul piano Giapi invece ragazzi, benvenuti al terzo anniversario. Sono iniziati a trapelare le info del terzo anniversario, in una bellissima scheda di V-Jump, come al solito, come avevo detto anche nello scorso video, due video fa, doveva uscire V-Jump in sti giorni, ed è uscito ragazzi. Cosa ci dice per ora? Nessuna info sui PG pullabili, quindi mettetevi il cuore in pace, non avremo alcuna info fino probabilmente al 29. Sappiamo al 100% adesso che il 29 sarà la data d'uscita, almeno la data d'inizio anzi, diciamo meglio, del terzo anniversario Giap. E vediamo un pochino le due, anzi tre novità, che sono state dette. In primis il PG free to play regalato, come presso a poco tutti penso. Hanno pensato il PG è Goku Super Saiyan 3, non mi pare sia Angel, mi pare che sia Super Saiyan 3 normale, INT. Non ci sono info su questo PG, tranne che è un SSR. Io mi aspetto sinceramente che col quarto anniversario vada a tour con Super Saiyan 4, con Super Saiyan 4 INT abbastanza interessante. Nel caso invece rimanga così è comunque un'alternativa più che giocabile, in casi molto messi male del miglior team del gioco. Dubito che se non avete nessun Super Saiyan 3 non possa stare all'interno del nostro carissimo Super Saiyan 3. E questa era la prima cosa, verrà dato in regalo col login del 29. Molto probabilmente verrà dato lui più le 5 copie. A quel punto la scelta sarà vota, se tenervelo, o magari se non vi importa più di tanto far collezione e tutto, vi frega di più magari di darlo in SA a qualcun altro, quindi vostra scelta, vostra scelta, io di sicuro me lo tengo. Il secondo evento che invece è stato annunciato è un qualcosa di abbastanza interessante. Parliamo infatti di quello che probabilmente sarà uno degli eventi di questo anniversario con un nuovo PG Free to Play, ESA. Esatto ragazzi, Gohan Kid STR, SSR, non si sa ancora in che modo formabile, si pensano al suo evento, avrà una forma tour che andrà a livello 140 tramite un esclusivo evento, Z-Awaken. Ora, non si sa nulla, alcuni di voi potrebbero dirmi, oh Naraku, Gigi, guarda si evolve con le medaglie di Goku Super Saiyan 3, in realtà no, c'è scritto che quelle sono le medaglie che sono state inserite per mostrare che ci sarà un ESA. Si sa davvero poco di questo PG, qua dovrei avere la news aperta, magari a cercare di vedere con voi qualcosa, ma si vede poco, e ci sono davvero pochissime informazioni. L'unica cosa che si sa è che è un SSR che va a tour, SA10, livello 120, e poi avrà il suo ESA che lo porta a 140 e 15 DSA. Pari inoltre che sarà un nuovo PG 100%, quindi avrà il suo evento che vi porterà a portarlo ad ability full, molto buono, molto molto buono, e potrebbe diventare un PG abbastanza buono. Finalmente vedo apparire PG che possono dare luce al Super SDR. Certo ragazzi, è un free to play, è un free to play, non aspettiamoci i miracoli. Ma cavolo, ho iniziato a portarmi a livello 140 a vari free to play, magari diventano meglio di SSR pullabili. E' la mia speranza che diventino meglio di SSR pullabili, che siano PG davvero giocabili. E' davvero una speranza molto grossa che ho. Quindi rimaniamo sintonizzati, inizio febbraio vediamo questo Gohan cosa ci porta. Spero che il suo ESA non sia eccessivamente complesso dato che è un PG free to play, però non possiamo saperlo. E il terzo e ultimo annuncio che è stato fatto è l'arrivo, dopo un anno che era stato liccato, di Polunga. Arriverà un nuovo drago dei desideri e ancora non si capisce bene in che formato. Si sa che saranno disponibili tre desideri, orb, tante orb, funky kai di tutti i colori e oggetti d'allenamento di ogni colore. Non male, ci poteva voler quello in più, ma non male. Si sa che ci vorranno sette sfere per ognuno di questi desideri, ma non si sa se queste sfere saranno trovabili nella storia, come al solito, oppure se magari saranno un evento o altro. E' meno sintonizzati, questa è un'informazione che meno mi incuriosisce o altro, però potrebbe essere qualcosa di davvero carino. Vediamo un pochino. Purtroppo ragazzi, non ci sono, nel momento in cui registro, ancora informazioni su cosa avremo domani. Domani vanno via le bacce di Rose di Vege, deve arrivare qualcos'altro, mancano 11 giorni all'anniversario. Già il JAP e anche il Global sono stati bloccati troppo tempo. Ora il Global sta per arrivare a questo eventino che magari porterà avanti 3-4 giorni, però bisogna velocizzarsi e far uscire roba decente. Ora io mi aspetto a Logic una Legendary Summon in uscita tra domani e dopodomani, di solito c'è la manutenzione la notte, non viene annunciata prima, quindi ci può stare, c'è stato un Rising Festival per Goku Super Saiyan 3, quindi ci sta benissimo fare una Legendary Summon per il prossimo PG. Non ho idea se uscirà la Legendary St.R. o Fisica, direi Fisica, però mi puzzerebbe in quanto è già uscito un PG fisico in Legendary Summon. Ma possiamo fare lo stesso identico discorso anche per l'S.R. in quanto anche Broly sto due volte in una Legendary Summon, quindi... Io mi aspetto un Extreme Fisico e a sto punto penso che avrà ragione Feliciano quando dice che uscirà un Cell Fisico. Ora, non è quello che serve al team, assolutamente, ma a cosa serve al team? Sinceramente Metal Cooler Big Gesta? Oppure un Drago Malvagio, Naturion Sherron? Quelli sono gli unici due PGA oggi che penso potrebbero davvero servire un LR fisico. Altrimenti un Buu, un Buu per giocare una versione un pochino modificata dell'Extreme Fisico in cui giochi fuori rotazione sia Cooler che Omega. Con Buu Tanks principali, l'Incante con un altro Buu bello cattivo. Però ho dubbi anche su questo. Aspettiamo domani e vediamo cosa esce. Io vi ringrazio per aver seguito, noi ci vediamo a sto punto domani con il prossimo video, oppure tra qualche minuto con la Rush, con Super Saiyan 3, non so se riuscirò a far uscire prima questo video o prima l'altro. Vi ricordo in descrizione il link per il gruppo Global Facebook Gaming, il link per l'Instagram mio e del Sommo Superiore Priscilla, e anche il link per i nostri rivenditori affidati di Stone, nel caso vogliate iniziare a caricarvi sin da ora per l'anniversario. Può essere un'idea buona, come no, dipende. Ricaricandovi ora, nel caso ci sarà coda, non avrete problemi di coda. Nel caso mettono però delle mega offerte alla Stone Blue o altro, naturalmente ricaricandovi adesso non l'avrete dopo. Pensate un pochino a cosa può essere più importante per voi e decidete, il link è comunque qua in descrizione. Ci vediamo a domani, buona serata!